Lasciamo sempre qualcosa di noi quando ce ne andiamo da un posto. Rimaniamo lì, anche una volta andati via. E ci sono cose di noi che possiamo ritrovare solo tornando in quei luoghi. Viaggiamo in noi stessi quando andiamo in posti che hanno fatto da cornice alla nostra vita. Non importa quanto questi siano stati brevi e viaggiando dentro noi stessi ci dobbiamo confrontare con la nostra solitudine. Ma tutto ciò che facciamo non lo facciamo forse per paura della solitudine. Non è questo il motivo per cui rinunciamo a tutte le cose che rimpiangeremo alla fine della nostra vita.